21 settembre 1923 nasce Sergio Zavoli pioniere della radio inventore dell'inchiesta televisiva testimone del novecento di cui ha raccontato per il servizio pubblico nascita e crescita della repubblica italiana giornalista scrittore autore televisivo presidente della rai dal 1980 al 1986 intellettuale attento alle complesse problematiche morali civili e sociali negli anni d'oro del servizio pubblico inventò e realizzò un genere di documentari poi imitato in tutto il mondo storie riprese nel loro stesso ambiente anche sonoro e non ricostruite in studio clausura dedicato alla vita religiosa venne tradotto in una decina di lingue nella lunga carriera televisiva creò altri memorabili programmi quali processo alla tappa tv7 viaggio intorno all'uomo la notte della repubblica il suo primo libro socialista di dio vinse il premio bancarella direttore del mattino di napoli negli anni 90 alla soglia degli 80 anni debuttò nel lagone politico conquistando il seggio in senato dove sarà rieletto per quattro legislature nell'autobiografia il ragazzo che io fui insieme alle vicende della sua storia personale ripercorre poeticamente un viaggio nelle memorie dell'amata italia